Non si comprende perché l'intero impianto costituzionale debba piegarsi a logiche differenti da quella del consenso. A parlare è Giovanna Bruno, sindaca di Andrea e presidente pugliese di Alie, autonomie locali italiane, nonché vicepresidente di Ancipuglia. La prima cittadina ha commentato con queste parole l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che stende il numero dei mandati per i sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti e toglie ogni limite ai comuni sotto i 5.000. Chiediamo che ci sia almeno un trattamento unitario, un allineamento nelle decisioni che si stanno prendendo, prosegue Bruno, esprimendo il suo disappunto sulla questione, poiché a suo dire il principio democratico non varia in base al numero degli abitanti, in quanto se un sindaco è bravo e lavora bene saranno gli elettori a decretarlo nelle urne, una o più volte. Mentre prosegue le ultime decisioni del governo centrale determinano che i comuni con più di 15.000 abitanti restano fuori da questa ipotesi. Come si giustifica la scelta ancora non è dato saperlo. Se un sindaco sciente si misura ancora con l'esercizio della democrazia, prosegue la sindaca di Andria, è giusto che questo esercizio non abbia limiti temporali, come d'altra parte accade da sempre in quasi tutta Europa.